Calato il sipario sulla stagione di prosa e danza, il Teatro Petrarca torna ad ospitare anche il Teatro Popolare. Ad irrompere sulla scena, sabato 14 maggio alle 21.15, sarà la Compagnia del Polvarone, con pensione Adelina. Due atti scritti in vernacolo e diretti da Roberta Sodi, che raccontano la settimana di vacanza nell'Alto Casentino di un gruppo di aretini di fine anni 50. Quest'anno siamo molti di più perché in questa commedia sono previsti 19 attori, per cui ne abbiamo dovuti prendere anche di nuovi, però siamo molto affiatati. Dal 2009, anno della sua nascita, la Compagnia del Polvarone si è fatta strada all'interno del Teatro Popolare Amatoriale a Retino e non solo, ricevendo moltissimi premi e riconoscimenti e portando sulla scena ben 34 spettacoli. Su dieci rassegni a cui abbiamo partecipato abbiamo vinto 11 premi, tra Compagnia e Miglior Attori. Vogliamo, come dire, testimoniare attraverso i nostri spettacoli il vernacolo, il vernacolo a retino, che altrimenti probabilmente andrebbe un pochino nel dimenticatoio. Invece riteniamo che sia importantissimo mantenerlo vivo, farlo conoscere alle nuove generazioni. E devo dire che la sorpresa più grande per noi è stata l'apprezzamento che abbiamo ricevuto anche fuori di Arezzo. Pensavamo che fosse una cosa solo locale. Invece anche in Umbria e in altri posti dove siamo stati è piaciuto molto.